Siamo con Cecereboli a un anno esatto dalla scomparsa di Davide, ovviamente tutto questo non può cancellare quello che è il dolore della perdita di un fratello ovviamente, però penso che in te oggi ci sia anche tra virgolette l'affetto di questa che per voi è una grande... Sì, un affetto che non è mai terminato in questo anno, nel senso devo ringraziare probabilmente tante persone, l'unica cosa che ti manda avanti comunque sono gli attestati di stima e di affetto che la gente ci dà e oggi sembrava giusto a tutti, oltre alla famiglia, a rendere un'ora a Davide, per noi è un ulteriore attestato di stima e affetto e per la gente che li voleva bene penso sia altrettanto. Ecco, per noi addetti ai lavori Davide era un po' il leader della curva, però a vedere quanta gente li voleva veramente bene significa che hai legato tanto con tante persone? Davide era leader in tutto, nel senso Davide voleva bene alla città, voleva bene alla gente che poi la gente ne dica di cose, però la gente purtroppo è fatta per parlare, però le dimostrazioni che si sono avuti purtroppo al funerale e in giornate come oggi dimostrano il contrario, Davide voleva bene alla gente e tanta gente voleva bene a Davide, quindi è solo orgoglio il nostro. Una vita all'insegna del Piacenza, Piacenza che continua e naturalmente continua anche il vostro tifo, adesso poi ci sono due partite che per noi sono fondamentali. Sarebbe stato bello vedere Davide in questa situazione del Piacenza, però sì, noi continuiamo nel suo ricordo, in quello che ci ha dato, quindi sicuramente dire continua è la parola giusta, continua sicuramente in maniera diversa, perché non è assolutamente più la stessa cosa, però si continua a ringraziare i giovani che stanno continuando a macinare chilometri, a spendere tempo e niente, si va avanti.